eccoci qui e benvenuti in questo nuovo video allora io ne approfitto intanto per farvi tantissimi auguri di natale a tutti voi e vi auguro che sia un giorno di festa un giorno felice pieno d'amore con le persone che amate che vi vogliono bene allora come sempre andremo a scegliere il nostro mazzetto la domanda che poniamo oggi alle carte sarà appunto quella se gli manco ok quindi potete pensare a una persona nello specifico e scegliere il primo mazzetto che vi colpisce quindi il mazzetto numero 1 gli mettiamo la polverina rossa il 2 quella color oro e il 3 la polverina verde quindi se gli manco ok allora vi ricordo sulla mia pagina facebook da questa settimana potete trovare il mio oroscopo fatto naturalmente con le carte napoletane la mia pagina si chiama proprio come il canale quindi non vi potete sbagliare luce cartomante carte napoletane vi aspetto numerosi anche di là su facebook allora andiamo a vedere subito il primo mazzetto alla domanda se gli manco che cosa mi rispondono vi rispondono le carte allora è qua la mancanza è reciproca devo dire che questa persona manca anche a voi da quel che vedo probabilmente voi dovete comunque fare una scelta perché da quel che vedo qui c'è più di un uomo e diciamo che gli mancate sicuramente quindi è una risposta positiva non vedo dialogo c'è sicuramente questo legame forte che da ciò che vedo io lui non accetta lui o lei non accetta proprio per per proteggersi è come se rinnegasse questo forte legame che comunque esiste tra voi ok quindi assolutamente sì gli mancate allora mazzetto numero due la polverina oro vediamo un po si qua c'è una forte mancanza devo dire anche in questo mazzetto vedo una forte mancanza probabilmente avete avuto dei litigi o ci sono state persone esterne che si sono messe in mezzo al vostro rapporto hanno creato zizzagna magari con dei pettegolezzi vedo proprio una forte mancanza una voglia di ritornare e la cosa che assolutamente questa persona vorrebbe vedervi e incontrarvi e vediamo il mazzetto numero tre la polverina verde allora sicuramente con questa persona da quel che vedo in passato avete avuto dei momenti felici non vedo il pensiero la mancanza ma più che altro perché vedo che è preso da altre situazioni quindi non sente la vostra mancanza per chi ha scelto il mazzetto numero tre vedo che ha delle forti discussioni in particolare con una donna di famiglia potrebbe essere anche comunque una figura femminile in generale una collega di lavoro una mamma una moglie quindi diciamo che ha altre situazioni è come se avesse un bel ricordo di voi perché comunque avete passato dei momenti felici ma fa parte del passato quindi questa mancanza io per chi ha scelto il mazzetto numero tre non la vedo purtroppo ok ancora tanti auguri tantissimi auguri di buone feste e al prossimo video